Oggi nel bunker dei vampiri ragazzi mi sono trovato questo mostro che non ha la più pallida idea di cosa sia ragazzi Si chiama The Nightmarish Krab Io non so ragazzi, io non l'ho mai visto Non so se l'ha messo qualcuno come Marci o qualche altro vampiro O magari qualche altro cacciatore ha scoperto dove si trova il bunker segreto dei vampiri ragazzi Ma lo scopriremo assieme Comunque benvenuti e bentornati Salute i miei campionici di oggi Che sono Silvia, Andrea e Jacopo Che sono un po' piccolini all'interno dell'interfaccia Però avevamo fatto un commento lunghissimo quindi volevo salutarli Benvenuti e bentornati a questo nuovo video Ragazzi io darei un nuovo nome a questo nostro nuovo campioncino Perché a quanto pare non ci attacca a queste parcerie attorno E potrebbe essere il maggiordomo dei vampiri ragazzi Perché come notate lui rimane fermo qua in questo modo E non ci fa nulla, anzi continua a osservare le tecche di sangue Non le tocca, non le modifica, non prende il sangue Quindi è stra 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 buono Comunque benvenuti e bentornati ragazzi Guardate qua cosa abbiamo, abbiamo anche pipistrelli, mostri e quant'altro Però da quando siamo noi diventati vampiri Nessuno ci vuole più far del male all'interno della Big Vanilla Quindi solo quei danatissimi e schifosi cacciatori Vogliono creare problemi ai nostri bellissimi vampiri Ai vostri bellissimi vampiri della Big Vanilla Comunque cosa faremo nell'episodio di oggi ragazzi Allora prendiamo un nostro bellissimo libro Continuiamo a livellare e sblocchiamo nuovi poteri Perché ragazzi noi oggi, non ci credo Non so con quale probabilità 23 cuore e 17 pozioni di sangue Ah Allora adesso finiranno ragazzi perché Devo sbloccare nuovi poteri Quindi oggi almeno due livelli dobbiamo fare E tanti voi mi hanno detto Marco stai attento Perché se superi il livello 15 Diventerai un vampiro per sempre ragazzi Vedremo Secondo voi devo restare vampiro per sempre Prima di tornare umano Ditemelo questo nei commenti Comunque abbiamo sbloccato un nuovo incredibile potere ragazzi Chissà se il fulmine avesse colpito questo schietro Cosa sarebbe successo Che poi non era neanche un fulmine Ma il vostro Demarca ragazzi Ha sbloccato un nuovo token Un nuovo skill point Per appunto proseguire con le migliorie All'interno di questo bellissimo schema Dei vampiri ragazzi Potremmo iniziare magari Andare verso questo lato qua ragazzi Dove appunto possiamo anche imparare Un modo per soffrire di meno La luce del sole Però non mi fa impazzire tutto il resto Di quello che appunto riusciamo a trovare A meno che poi non arriviamo a questo punto Dove per esempio abbiamo il fast recovery Quindi per esempio Siamo molto più veloci a recuperare l'energia Oppure abbiamo il teletrasporto Però qua ragazzi ci costa veramente tantissimi punti Se no possiamo continuare da questo lato ragazzi Abbiamo Advanced Biter Che è un modo per prendere più sangue Molto più velocemente all'interno dei mob Oppure possiamo scendere E finalmente poter sbloccare anche il Disguise Cosa che faremo in questo momento Ma in realtà tecnicamente Ci mancano due cuori umani Che ho a casa sicuramente ragazzi Quindi vado a prenderli Per andare almeno a livello 10 L'abbiamo un pipistrello ragazzi Come anche noi siamo dei pipistrelli C'è praticamente Dopo ci trasformiamo Iniziamo a muoverci un pochino i pipistrelli Però volevo testare anche il Disguise Tutti quanti i vari poteri che avevamo ottenuto Allora Facciamo una cosa Torno un attimino a casa Così vado a prendere altri cuori Per appunto sbloccare nuovi livelli Ma Prima di fare questa cosa veloce Volevo fare un piccolo crafting con voi Che mi avete consigliato Che è tecnicamente La tomba Dei vampiri Ragazzi Eccola qua La tombstone Che è fatta in questo modo Unito a un altro pezzo di cobblestone Sblocchiamo la large tombstone Questo ragazzi Semplicemente potrebbe essere Per esempio un segnale Che potremmo lasciare Magari a casa di loco Questa È la tua tomba Signor loco Da buon vampiro Ti elimineremo Vero signor schedro Ma sta sorgendo il giorno Dannazione Devo andare subitissimo Verso casa ragazzi Torniamocene subitissimo E vediamo un attimino Se riusciamo ad arrivare Prima che il sole ci attacchi Anche se in realtà La schermata Sta già diventando Fin troppo gialla E io ho appena Ho ottenuto l'effetto Di weakness E di nausea Ragazzi non so più orientarmi Con questi effetti bruttissimi Sto prendendo anche Un sacco di cuori Devo utilizzare Non di miei poteri ragazzi Utilizziamo la rigenerazione Se no a casa Non ci arriviamo interi Meno male Che sto sbloccando piano piano Un sacco di effetti Ma perché c'è tutta questa nebbia Cosa sta succedendo ragazzi Qualche cacciatore Ha messo qualche effetto Nebbia strano Guardate qua Che qualcuno intanto Mi ha pure griffato La zona di casa mia Oggi Ragazzi Non ve l'ho ancora letto Nell'intro Ma sicuro Nell'intro L'avete letto Noi Andremo all'attacco Andremo a sfidare La casa di loco Ragazzi Andremo a rubacchiare Anche oggetti All'interno della casa di loco Allora Noi siamo arrivati qua Ma non mi ricordo Se i cuori Li ho messi Sotto pure qua No li ho messi qua No fermi 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 Li ho messi direttamente Qua dentro Meno male che Non ho più razzetti Però Ho razzetti da qualche parte Se no non ci arriviamo interi Direttamente in quella zona Del mondo Fermi un attimo No E qua Uuu Qua ne abbiamo un sacco Ragazzi Ok Allora Andiamo direttamente Torniamo nella zona dei vampiri Perché abbiamo da sbloccare molte cose Prima di andare a rubare Nella casa dei cacciatori Guardate qua Che scempio che hanno combinato Ragazzi Qua io so chi mi ha griffato Sicuramente loco qua Avrò fatto esplodere Un sacco di TNT E un sacco di creeper Visto che Io ho piazzato TNT Ma non gliel'ho fatto Anzi no Gli ho fatto esplodere solamente tre Ma Era già Perché Lui mi aveva già Spiato E già mi stava per attaccare Una volta Quindi è per quel motivo Che io l'ho fatto Anzi Vi ricordo Quello che il campioncino di loco Aveva attaccato anche Coco ragazzi Quindi In realtà Rivelo gli attacchi Siamo 2 a 1 Da parte dei cacciatori Contro i vampiri Soprattutto contro di me Quindi adesso vedremo ragazzi Vedete vedete Andiamo un attimino Verso il bunker dei vampiri In tutto ciò Piazziamoci qua dentro Un altro cuore Quindi Ok Ora sono 20 e 16 ragazzi Ci vuole molto per fare i cuori Però piano piano Li sto farmando Trovate anche un modo Per farmarli con molta calma Mi devo allontare Molta da queste zone Però ce la posso fare Comunque arriviamo fino al livello 10 Ragazzi Oh tutti i 4 i totem Per la prima volta Si attivano assieme Guardateli che figata Che è raga Posso dire che i rituali dei vampiri Sono una figata epica atomica Allora Vediamo adesso Cosa posso sbloccare Perché abbiamo sbloccato il disguise Abbiamo ottenuto anche Più cuoricini Quindi come notate Ci mancano solamente 3 cuori Per avere la doppia fila di cuore intera E Volevo appunto Provare a vedere Quindi se potevamo andare Magari anche dall'altro lato Per sbloccare nuovi Incredibili poteri Quindi Qua noi sprecheremo Un punto di skill point Per andare sullo sunscreen Però 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 in effetti Quando ho letto che qua Possiamo recuperare la vita Molto più in fretta E anche teleportarci La cosa mi è piaciuta Qua invece Possiamo limitare i danni Ok Oppure Poi possiamo anche diventare invisibili Possiamo anche frizzare Oh Che figata Non ho letto mica ragazzi Tutto quanto questo giro Ma qua possiamo frizzare Anche gli avversari Allora proseguiamo invece da questo lato Ragazzi L'ultimo lato Lo faremo in un altro momento Però tanta tanta roba Qua Stanno sbloccando Molti Molti bei poteri Ragazzi Tanta tantissima roba Allora Prendiamoci un po' di boccette di sangue Queste qua ci serviranno Perché se no Qua non possiamo progredire E continuiamo ad andare avanti Mettiamo via questo Mettiamo via questi oggetti Un attimino Anche un po' di razzetti E ora Possiamo andare veramente Verso casa di loco Ragazzi Allora quanto sangue ho preso Però pochissimo Quindi me ne servono almeno Un 5 boccette ragazzi Almeno siamo belli che tranquilli Droppiamo via questo E questo qua E anche questi pedistalli qua Un attimo Li possiamo droppare E anche queste piume Ora andiamo verso La zona di loco Ragazzi Voglio capire Cosa sta combinando Quel danatissimo cacciatore Se ha qualche oggetto Che magari Si è lasciato a casa Ha dimenticato a casa Che posso rubacchiare E portare via con me Andiamo Allora Verso la zona di loco Dato che sono da sola All'interno della Big Vanilla Uh ma che figata Cos'è questa zona qua nuova Tutta quanta così Bellina Ok Interessante Interessante Allora Ma Allora Intanto Mettiamoci qua Direttamente E con Questo bellissimo Pressure plate Ci portiamo direttamente Nella zona di quel cacciatore Scarso Di loco Mettiamoci in modalità pipistrello Ragazzi Almeno siamo belli che tranquilli Anche se non c'è nessuno Quindi stiamo Con i nostri Poteri vampirosi Che potrete stare Anche per esempio Il salmon butts Guardate Wow Quanti bellissimi pipistrelli Che abbiamo evocato Con i nostri poteri Allora Cos'altro potremmo utilizzare Niente ragazzi Perché in realtà Tanto non litighiamo con nessuno Perché non c'è nessuno Quindi Vediamo Allora Una porta è già aperta Mappiamo anche l'altra Ed entriamo Buongiorno Oh You cannot fly under C'è C'è l'effetto del garlic Da dove? Credo che sia questo robo qua Rompiamolo subitissimo ragazzi Dove è il mio Non ho come il mio piccone No ragazzi Dove è andato a finire il mio piccone? L'ho lasciato sicuramente da qualche parte Fermi un attimo Andiamocene subito Non trovo più il mio piccone ragazzi Quindi mi sono ancora stato un piccone nuovo in diamante Cioè vedete voi come sono messo Ma non trovo più il mio super mega piccone Allora Rompiamo subitissimo questi oggetti Ma non si possono rompere? Come cavolo si rompono ragazzi? No in realtà lo stiamo rompendo Ma ci vuole veramente tantissimo Allora Noi rompiamolo Perché tanto l'effetto del garlic No ma sono stupido ragazzi Mi sono bloccato Dannazione Dicevo l'effetto del garlic è fastidioso Ma noi Siamo qui appunto anche per dar fastidio Quindi per rompere questi oggetti E portarceli via Quindi Rompiamo questo oggetto qua Che appunto è l'aglio Quello per scacciare i vampiri Che a loco serve molto molto volentieri Anche perché come avete visto ragazzi Abbiamo scoperto una cosa nuova Se ci sono questi oggetti Noi non possiamo rimanere trasformati in pipistrelli Quindi Rompiamoli per bene Anche se in realtà Io avrei bisogno del mio piccone ragazzi Che magari ho lasciato nel bunker dei vampiri Allora Quanto ci vuole rompere sto coso? È praticamente tutto quanto crepato Ok Molto bene ragazzi Quindi se lo teniamo nell'inventario Non ci succede nulla No Infatti ragazzi L'effetto qua sta scendendo Senza che Viene più rinnovato Allora con molta calma Cerchiamo di capire Qua dentro Oh c'è un altro in fondo E lì c'è anche un tavolo Con un altro aglio E un libro Allora qua dentro c'è qualcosa di interessante Uh altri garlic diffuser ragazzi Ok Stiamo un po' più lontani da quello Visto che a quanto pare Da qua non si attiva Rubiamo anche il tavolino Rubiamo tutti quanti Questi oggetti qua Ragazzi Che a loco serviranno sicuramente Molto bene Però Secondo me lì l'ha messo nell'angola Perché non vuole che noi raggiungiamo il piano sopra Quindi È stato molto 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 intelligente Perfetto Prendiamo anche questo oggettino qua Ok E andiamo sopra Corriamo Corriamo Non facciamoci prendere dall'aglio Ok Non ha funzionato ragazzi Quel diffuser dell'aglio Allora Oh guardate Quanta roba c'è qua dentro Quanto aglio Ragazzi Prendiamo e portiamocelo via Lo bruciamo direttamente nella lava Qua L'acqua santa Ragazzi Questa La prendiamo E la bruciamo Subitissimo ragazzi Guardate qua quanta roba che Che c'è Ah loco Ci hai voluto attaccare eh Questo è il risu Quanta roba c'è qua dentro Guardate quanto sangue del vampiro Che c'hanno Questo cos'è L'anima del vampiro Ah Un sacco di anelli Un sacco di robe Molto Questo cos'è Zucchero Ok Allora ragazzi Facciamo una cosa Dato che abbiamo preso un sacco di oggetti Cavolali Mi ha preso ragazzi Usciamoci subitissimo Prima che ci dà altro fastidio Cos'è questo Crimson Cat Io non credo che tu sia cattivo Quindi tu mi puoi lasciar stare O ti vuoi che Uso la mia spada contro di te No sei bravo Sei bravo Sei bravo Allora se non mi sbaglio Loco ha della lava là in fondo Infatti è così ragazzi Possiamo quindi Tecnicamente andare E droppare tutti quanti i suoi oggetti Nella lava Lui ci ha attaccato ragazzi Questo è il risultato Signor Loco Vedremo Se magari risponderà un'altra volta Però guardate qua ragazzi Anche l'acqua santa Ho buttato direttamente nella lava Perfetto Ora Sono molto molto meglio ragazzi Tutto quanto nella lava Ho buttato Ok calma Che stanno qua prendo un sacco di danno Molto 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 bene Sono felice ragazzi Di questa missione Che abbiamo appena Portato A termine Noi Ci vediamo in un prossimo video ragazzi Anche perché è piena notte Quindi devo andare assolutamente Al riparo al buio O andare a dormire da qualche parte Da Marco è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Iscrivetevi E attivate la campanita Se hai quante notifiche Ciao ciao Scegliete uno Dette video qua davanti